Uno spazio verde per i più piccoli dove scoprire, accompagnati dall'UNICEF, i diritti delle bambine e dei bambini e dove farli incontrare con chi bambino è stato un tempo. Accade a Pistoia nel giardino di Monte Oliveto, tra la casa dell'anziano e il centro di un Alzheimer ribattezzato il giardino piccino. L'iniziativa è stata del comitato provinciale UNICEF e della diocesi, che grazie al contributo della locale sezione Lions hanno risistemato l'aria, portando via i vecchi e danneggiati giochi, iniziando un'opera di riqualificazione. Qui, dal mese di luglio, saranno proposte iniziative, in primo luogo per i bambini, con l'obiettivo di farli incontrare con gli anziani vicini. I vari momenti saranno annunciati anche attraverso la pagina Facebook dell'UNICEF Pistoiese. È una struttura che può riprendere vita anche in termini di eventi di socializzazione per le persone di una certa età. E allora credo davvero che avere l'opportunità anche della presenza dei più piccoli, di bambini, che possono intessere relazioni, può voler dire appunto costruire o ricostruire quei legami intergenerazionali che sono la parte sostanziale di una comunità. A noi ha entusiasmato l'idea di creare un'occasione di incontro tra i bambini e gli anziani, perché oggi è una delle grandi povertà. Si sta insieme solo per classi di età e mai per... come era un tempo nella famiglia dove c'era l'anziano, il nonno, il bambino. Siamo convinti che questa è una ricchezza per gli anziani perché rivivono e per i bambini perché si sentono protetti. È uno dei tratti caratteristici del Lions quello di operare sul territorio e quello di operare in particolar modo diciamo con le nuove generazioni. In questo caso qui le nuove generazioni si vanno a integrare con le generazioni che sono degli usati garantiti a questo punto e quindi ci sembrava che questo link intergenerazionale e di riqualificazione di area verde fosse tra i nostri obiettivi e tra le nostre finalità. Un giardino che si spera sempre più sia popolato non solo da bambini e dagli adulti e anziani ma anche da tutti i cittadini pistoiesi proprio per farlo diventare una agora che permetta di vivere insieme e di vivere bene all'insegna appunto di un piccolo giardino ma sicuramente un giardino che non è solo nel cuore della città ma è con il cuore che è stato costruito.